lo stringe forte con la mano che la carezza e lo protegge sono tornati a essere inseparabili forest e la sua mamma il piccolo macaco un mese circa nella notte tra domenica e lunedì è stato letteralmente strappato dalle sue braccia a furia di botte che non hanno risparmiato nessuno dei sei macachi presenti al parco faunistico cappellerra dopo gli accorati appelli lanciati via social il cucciolo che proprio in omaggio ai suoi soccorritori è stato ribattezzato forest è stato consegnato ieri pomeriggio ai carabinieri da un uomo che lo aveva trovato nel centro di favaro veneto in una gabbia all'interno di un sacco da qui la telefonata al parco e il ritorno a casa era difficile rintrodurlo in un gruppo anche perché il piccolo era aveva comunque altri odori non è mai facile rintrodurre un individuo all'interno di un gruppo è andato tutto bene nella rintroduzione la mamma l'ha preso subito con sé sono ancora anche il piccolo ha riportato diversi ematomi in testa e il respiro inizialmente appena la veterinaria uno dei titolari si sono recati dai carabinieri non era bellissimo ha ricevuto sta ricevendo tutte le cure del caso e speriamo insomma che 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 vada tutto a buon fine si rimetta presto giornate difficili per il gruppo di macachi sono stressati terrorizzati pieni di ematomi dopo le botte ricevute forse con un bastone dai ladri che sono entrati dopo aver tranciato questa rete animali particolari macachi che anche gli addetti del parco trattano con attenzione di forest che non era mai stato avvicinato dal momento della nascita fino a ieri non si conosceva neppure il sesso per controllare il sesso del piccolo avremmo dovuto anche noi strappare il piccolo alla mamma e solitamente lasciamo sempre che sia lei ad avvicinarsi a noi indagini sono in corso per capire chi possa essere il responsabile di un'azione così malvagia l'auto dei malviventi è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del parco il video è già stato consegnato ai carabinieri il primo furto di animali subito dal parco cappeller la domanda che ci stiamo facendo tutti è perché perché massacrare degli animali di botte per sottrarre un piccolo alla mamma non sappiamo è stato un piccolo alla mamma non sappiamo